caro Valentina, quando sei a Castellina vai alla propria e poi prendi la frutta così in maniera naturale, capito? così da carezzi e tutto l'oro se ne è più in mezzuno, giro gestica a questo po' con appeggiamento e il brand l'urex vi ricordo che anche gli accessori sono costruzioni di moda quindi anche tutto ciò che riguarda anche l'agricoltura, le salve e anche Rihanna ha una gonna in pelle nera con luccicante, con l'urix è il suo carone a me è la vita, il suo senso è più bello, a me è un'altra